A nome dell'Associazione Italia Tibet e della comunità tibetana in Italia, questo è stato il contributo nostro a Roma alla causa del Tibet, occupato da 56 anni dal governo di Pechino ed è questo il significato delle 56 bandiere che abbiamo congiunte insieme e abbiamo sventolato dal Ponte Milvio. Quest'iniziativa si realizza in linea con gli analoghi blitz che si stanno svolgendo in diverse città d'Italia e speriamo si possa allargare e diffondere anche in Europa. Il nome di questa iniziativa è Un Ponte per il Tibet, con l'augurio che il Tibet possa presto essere libero. Ciao! 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 Ciao!